Forza! Ecco dei proiettili! Medico nemico individuato! Ecco le munizioni! Tieni! Munizioni! Pristo! Una santa... Pristo! No! Pristo! Pristo! We have taken objective, Charley. We have a prison! We have served! No, no! You must escape! Urgh... Grazie a tutti. 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 Ecco dei proiettili! We have taken objective Charlie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forza! Munizioni! Lancia una bomba a mano! Grazie a tutti. 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 Un assaltatore nemico! Un assaltatore nemico! Un assaltatore! Un assaltatore! Un assaltatore nemico! 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 Grazie a tutti. 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 No! We are winning.